Un'altra giornata all'attacco per te, dall'inizio praticamente, la legge potrebbe essere all'attacco, 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 all'attacco. Era sulla carta la tappa un po' più aperta e quindi era giusto provare, giusto mettersi un po' alla prova e alla fine queste tappe, questi sforzi, torneranno utili fra qualche settimana. No, diciamo che la maglia è un po' la conseguenza dell'essere lì davanti e non ci sto filando troppo. Vediamo cosa succede domani e poi l'ultima tappa. Cosa vi è mancato per entrare davanti? Ci è mancato che qualcuno ci ha fatto sbagliare strada e con Luis e Leon siamo andati dalla parte sbagliata. Abbiamo dovuto rimetterci in strada e tornare sotto. Forse potevamo avvicinarci un po' prima e non arrivare al chilometro, diciamo, vicini ai primi. Però, ecco, Moscone credo fosse imbattibile. E aspettiamo il fuga anche domani. Vediamo come va la notte. Presidente del gruppo sportivo Alto Gatto.